Buonasera, elenco delle giornate dolosamente dimenticate, stilato oggi, 26 marzo 2012, giornata della lentezza. Per apprezzare al meglio questo elenco, ascoltatelo a una velocità ridotta. La giornata dei baffi, la giornata dei fogli protocollo, la giornata degli ungulati, dei celenterati, la giornata dei capelli tagliati, caduti a terra e poi spazzati, la giornata delle unghie tagliate, raccolte oppure dimenticate e finite nelle fughe delle mattonelle o negli interstizi, la giornata delle make-up, la giornata dei giochi non risolti della settimana enigmistica e abbandonati, la giornata delle barbe incolte, la giornata del berillio, la giornata dei luoghi comuni, degli involucri, delle sorprese degli ovetti kinder sparati una volta e poi abbandonati, la giornata delle quattro dita dei piedi senza nome, l'alluce, la giornata dei batteri killer, tutti con loro ce l'hanno là, la giornata dei pezzetti di guaina di filo elettrico tagliati e dimenticati, la giornata delle occhiate ammiccanti non colte, la giornata della perplessità, la giornata delle valve e delle telline spagliate sul bagnasciuga che si cercano e non si incontrano mai, la giornata dei coriandoli il mercoledì delle ceneri lungo le strade, la giornata dei giorni pari, la giornata dei giorni dispari, la giornata dell'indecisione se considerare la domenica un giorno pari o un giorno dispari, la giornata di quelli che di lavoro inventano le giornate di questo e di quello. Buonasera.